Ciao a tutti, un saluto da Alessandro e Federico e oggi apriamo un pacco a sorpresa che ci ha inviato da LPP E qui, da LPP e quindi vediamo cosa ci hanno inviato, cosa ci hanno inviato Vediamo Ecco qua e abbiamo dentro Due Trial Deck di Khan Fight Vanguard, uno degli strutture delle rame e adesso vado a Dragonico Poi abbiamo dentro due Mazzi Price Walker di Chandra e di Tereri Poi abbiamo ancora un portadeck di Un pre-release deck di Dominaria E poi abbiamo anche Abbiamo un bel po' di cose qua dentro Poi abbiamo anche Dieci bustine dell'ultima espansione di Khan Fight Vanguard Il ritorno teofante del re dei cavalieri Sì, del re dei cavalieri Ecco qua E poi Abbiamo Le sleeve Le sleeve di Khan Fight Vanguard E poi Delle mini sleeve Vuote E poi anche Queste mini sleeve molto belle rosse Con un drago che Non so che cos'è E poi c'è C'è anche una lecchia No, non è la lecchia No, è solo la fattura Eh, lo so Vediamo un po' E' sempre carta Ok E' sempre carta E' una fattura che non metto a leggere Perché è una cosa che non ci interessa E quindi Ok, ci vediamo Quindi in un prossimo video vi farò vedere I due trial deck di Khan Fight Vanguard Di strutture delle dame Di strutture delle antagoniche E quindi Ciao Al prossimo video Ciao 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 Grazie.